Real English è l'inglese che viene usato veramente ogni giorno però non è sempre corretto grammaticalmente e spesso usiamo anche slang ma la cosa importante è che viene usato non sto dicendo che le cose si imparano nei libri eccetera non va bene certo che va bene però anche dobbiamo capire come parliamo veramente quindi questa sera io vi insegno lo slang il Real English che viene usato spesso nei pub quindi prendi qualcosa da bere e andiamo insieme al pub Ok iniziamo con come dobbiamo ordinare una pinta di birra se andiamo con i nostri amici la cosa più facile è vediamo un esempio So my round è tocca a me per offrire quindi io compro le birre questa volta per tutti e poi la prossima volta è il round di qualcun altro Poi what you having questo qui è ellipsis perché dovrebbe essere what are you having per dire che prendi da bere però siccome è una situazione informale abbiamo usato ellipsis abbiamo tolto il verbo essere quindi what you having Qualche volta si sente anche nei pub qualcuno chiede qual è il tuo veleno letteralmente di nuovo significa cosa vuoi da bere viene usato un po' di più per le persone un po' più vecchie però si sente ancora nei pub però poi lui ha detto I'll have a pint of beer please Nei pub non si sente mai a pint of beer Beer è la parola generale per birri ci sono tanti tipi noi abbiamo l'og questa è la birra che si trova in Italia spesso perroni, nastro azzurro eccetera poi però in Inghilterra noi abbiamo le birre più tradizionali quindi noi abbiamo bitter e anche ale la differenza tra ale e bitter c'è differenza però è poca il modo in cui viene preparato la birra però è molto diverso di l'og non è frizzante per esempio però questi sono quelli tradizionali e spesso le persone chiedono per an ale oppure a bitter quindi la cosa importante è di non chiedere per una birra a beer dobbiamo specificare a lager, a bitter oppure an ale vediamo I'll have a pint of red beer please ok ok devo spiegare un'altra cosa una birra rossa ovviamente si vede spesso in Italia però in Inghilterra a red beer non esiste noi abbiamo un amber ale e questo è l'equivalente di un red beer, birra rossa però non si trova spesso in Inghilterra perché ovviamente è molto più forte come alcol e noi inglesi non beviamo la birra troppo troppo alto quindi esiste una birra rossa però dobbiamo chiedere per an amber ale quindi vediamo I'll have a pint of bitter please I'll have half a lager no no a pint molto meglio poi lui ha chiesto per a half a half è metà pinta però poi ha cambiato idea ha scelto una pinta intera ok nei pub di soldi devi andare al bar devi ordinare e devi pagare subito però qualche volta se tu sai che devi stare in quel pub per un po' di tempo e vuoi pagare tutto alla fine si può chiedere ma devi fare nel modo giusto tipo questo thanks can you write them down and I'll pay at the end? oppure can you start a tab for me please? quindi a tab è dove quello che lavora nel pub scrive tutte le bevande che tu prendi e poi alla fine puoi pagare con la carta non non è possibile in tutti i pub per esempio nelle città grande non è possibile più però nei pub più locali diciamo si può fare ancora oppure ho chiesto letteralmente can you write these down? puoi scrivere questi è la stessa cosa a tab can you write these down? è sempre la stessa maniera per chiedere senti posso pagare tutto alla fine? ok quando tutti hanno qualcosa da bere ovviamente dobbiamo fare un brindisi quindi in inglese si dice cheers 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 ha diversi significati può essere anche grazie thank you però in questo caso è per fare un brindisi cheers tipo cin cin in italiano ok adesso quindi avete quasi finito la prima pinta adesso tocca a qualcun altro di offrire le bire to buy a round però per non ripetere a round cos'altro possiamo dire? my shout same again yes thanks yeah yeah go on then avete sentito? my shout my shout è uguale di my round offro io poi ha detto same again per dire la stessa cosa quindi same again significa che prendo la stessa cosa che ha bevuto prima vedi non c'è would you like do you want queste cose qui siccome è una situazione molto informale con gli amici non c'è bisogno dire però se qualcuno non ha ancora finito la pinta si può dire questo ok I'll put one in for you quindi I'll put one in for you significa che io ti offro la birra io pago è solo che non lo prendo subito perché non hai finito quello che stai bevendo adesso quindi quando sei pronto basta andare al bar e chiedere per la birra perché è stato già pagato perché in inglese se hai due bevande insieme abbiamo un modo di dire per questo I'm double parked sì double parked quando hai due birra o due bevande sei double parked e questo non è buono quindi devi finire uno velocemente poi alla fine della serata di solito qualcuno fa questa domanda right one for the road yeah why not yeah it would be rude not to quindi one for the road uno per la strada ovviamente non è qualcosa che si beve mentre stai camminando a casa no si beve sempre al pop però è una scusa per bere un'altra birra praticamente poi lui ha risposto it would be rude not to sarebbe scortese e maleducato di non prendere un'altra birra ovviamente non lo è ma di nuovo è un modo per giustificare un'altra birra noi britannici noi siamo strani l'ho sempre detto ok ok quindi però c'è qualcosa che dovete capire il modo in cui noi parliamo perché spesso quando diciamo una cosa intendiamo un'altra vediamo questo prima di andare al pub quando devi dire a tua moglie per esempio se avete un marito inglese come me sapete benissimo che quando vi dicono I'm going down the pub for one or two vuol dire I'm going down the pub for four, five, six, seven almeno sei come Joe va bene lei ha ragione comunque andiamo avanti quando noi andiamo al pub raramente va bene qualche volta e anche spesso noi beviamo un po' troppo e diventiamo ubriachi ok quindi per dire sei ubriaco si può dire you are drunk però in inglese abbiamo migliaia di modi per dire questa cosa quindi io ho scelto alcuni più usati invece di dire I'm drunk si può dire I'm hammered I'm legless I'm smashed I'm gone I am wasted quindi I'm hammered I'm legless senza gambe I'm smashed I'm gone I'm wasted sono cinque dei modi più usati diciamo per dire che sono ubriaco poi ovviamente quando bevi troppo la sera prima il giorno dopo la mattina non ti senti bene è vero quindi noi possiamo dire I'm hungover oppure I have a hangover questa è la conseguenza di aver bevuto troppo la serata prima quando non senti molto bene però in Gran Bretagna noi abbiamo la medicina migliore per andare avanti per sentire molto meglio di nuovo e si chiama hair of the dog hair of the dog e cos'è? non è quello che stai pensando hair of the dog è qualcos'altro da bere perché se non senti molto bene la mattina e dopo se bevi di nuovo poi diventa molto meglio si chiama hair of the dog ho detto prima che noi britannici siamo strani ok ok spero che questo è stato utile fatemi sapere se voi avete sentito altre cose nei pub in Gran Bretagna ok thank you very much I'll see you soon